GIOVEDÌ DELLA SECONDA SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO Dall'Ovangelo secondo Marco In quel tempo Gesù, con i Suoi discepoli, si ritirò presso il mare, e lo seguì molta folla dalla Galilea, dalla Giudea e da Gerusalemme, dall'Idumea e da oltre il Giordano, e dalle parti di Tiro e Sidone. Una grande folla, sentendo quanto faceva, andò da lui. Allora egli disse ai Suoi discepoli di tenergli pronta una barca, a causa della folla, perché non lo schiacciassero. Infatti, aveva guarito molti, cosicché, quanti, avevano qualche male, si gettavano su di lui per toccarlo. Gli spiriti impuri, quando lo vedevano, cadevano ai suoi piedi e gridavano, tu sei il figlio di Dio, ma egli imponeva loro severamente di non svelare chi egli fosse. Commento al Vangelo del giorno di Don Luigi Maria Epicoco Allora egli pregò i Suoi discepoli che gli mettessero a disposizione una barca, a causa della folla, perché non lo schiacciassero. Infatti, ne aveva guariti molti, cosicché, quanti, avevano qualche male, gli si gettavano addosso per toccarlo. Mi commuove la richiesta di Gesù nel Vangelo di oggi. Elemosina un po' di spazio sulla nostra barca per poter continuare a parlare a tutti. Il rischio, infatti, di essere schiacciato è alto. Non siamo forse abituati a pensare a un Dio che ha bisogno di noi. Dio, per definizione, è onipotente, può tutto, non ha bisogno di nulla. Ma Gesù ci ha insegnato che Dio è talmente amante della nostra libertà da consegnarsi alle nostre scelte, ai nostri sì e ai nostri no. Siamo discepoli di un Dio che si propone, ma che non si impone. La fede, diceva Benedetto XVI, è una vittoriosa certezza, ma questa vittoriosa certezza la si può perdere, rovinare, schiacciare nelle mille cose della vita. La vita spirituale è permettere a Gesù di avere un po' di spazio nel nostro tempo, nelle nostre giornate, nelle nostre cose, per continuare a proclamarci la buona notizia di essere completamente amati. Finché desideriamo avere un Dio che si impone a noi, rimarremo delusi. Gesù agisce con potenza nella vita di coloro che gli fanno spazio. Sarebbe bello se oggi ci domandassimo quanto spazio gli facciamo. Sarebbe bello avere consapevolezza se siamo come quei demoni che sanno bene chi è, ma non si lasciano cambiare, o siamo come quelle folle che lo cercano solo perché vogliono essere guarite. Si è discepoli non quando si ha la risposta giusta, né quando è la disperazione il vero motivo per cui lo cerchiamo. Si è discepoli quando si decide di fare spazio a colui che ha scelto la via dell'umiltà per portarci la salvezza. Pensare che il Figlio di Dio, se fatto uomo, non serve a emozionarci in tempi di Natale. Ma serve a ricordarci che colui che riempie i cieli e i cieli dei cieli, ha scelto di diventare bambino perché ognuno di noi rimanesse libero davanti a lui.